Si è diffusa a macchia d'olio la notizia della possibile anticipazione delle elezioni regionali al 10 maggio, anziché al 17, data della donata nazionale degli Alpini all'Aquila. Dopo i forti attacchi anche politici relativi al giorno, ipotizzato inizialmente, dunque marcia indietro del Premier Renzi, che, come annunciato ieri nei nostri Tg, in un incontro con i parlamentari democratici, avrebbe indicato proprio il 10 maggio come data più plausibile per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi consigli regionali. Lo stesso assessore del Veneto, Elena Donazzana, ha accolto favorevolmente questa data come la più probabile per le elezioni, auspicando che nelle prossime settimane venga definita con certezza. Lei stessa, infatti, lo scorso mese aveva inviato una lettera ai sindaci veneti per coinvolgerli attivamente in un'azione di pressione al governo. Ed è sempre l'assessore Donazzan che, in tempi di crisi, si fa portavoce di un'iniziativa, firmata anche dalla Regione Veneto, chiamata Garanzia Giovani, rivolta a giovani disoccupati e aziende del territorio. Garanzia Giovani garantisce che questa opportunità sia soggetta ad un sostegno pubblico. Informare significa anche far sapere che queste opportunità ci sono e sono calate sul nostro territorio. Il Balsanese è un territorio che sta soffrendo molto la crisi, ci sono molti ragazzi a cui dobbiamo provare a dare un'opportunità per non andare all'estero, per restare qui, per dare un contributo di intelligenza e di voglia di fare anche alle nostre aziende.